Sulla strada che da Popereacco porta a Percotto, più precisamente in zona cimitero di Percotto, oggi Gianluca Maranini ci illustrerà come togliere l'erba nelle vie di fuga del cimitero. A te Gianluca. Esatto. Prima di tutto strumenti necessari, un guanto e l'attrezzo di Gabriele. Passi da svolgere, riscaldare l'attrezzo. Ricordarsi il pollice e a questo punto, lo vedete l'angolo? Mostriamolo meglio. Esatto, questo angolo qui fondamentale è il sinistro, inserirlo nella fessura. E a questo punto, aiutandosi col pollice, fare leva. Lavoro fatto. Un lavoro perfetto. Grazie Gianluca. Prego.